Nell'anno del turismo lento, un progetto di sviluppo territoriale sostenibile da Roma all'Aquila, un cammino trekking di oltre 430 km che coinvolge 42 comune e 7 parchi naturali e che attraversa le aree terremotate. È stato presentato nel corso del Trento Film Festival il cammino naturale dei parchi, un percorso lento e sostenibile per gli escursionisti desiderosi di riscoprire un'Italia diversa. Un'iniziativa nata già nel 2016 a cui è stato dato grande rilievo nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Trento. Da Roma all'Aquila il cammino trekking copre ben 430 km, 42 comuni e 7 parchi naturali, inclusi nelle magnifiche e diversificate aree protette interne del Lazio e dell'Appennino centrale, un'iniziativa nata per permettere di ammirare il diversificato e ricchissimo patrimonio naturale, culturale, artistico e storico italiano. Il turista infatti avrà occasione di attraversare paesaggi selvaggi incontaminati, aree poche conosciute nel rispetto della biodiversità. Il progetto permette alle aree interne colpite dal terremoto di reagire e di intraprendere un percorso di rivalorizzazione paesaggistica e sociale. Le strutture ricettive locali coinvolte tramite l'affiliazione al cammino rafforzano il senso di appartenenza e solidarietà. Le strutture ricettive locali coinvolte tramite l'affiliazione al cammino rafforzano il senso di attraversare paesaggi